Spacciava nel parco sotto casa a Rancitelli e nella propria abitazione teneva nascosto un chilo di hashish. Un giovane pusher trentenne di Pescara è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Pescara nell'ambito delle attività previste dal piano d'azione Drag Market. I baschi verdi lo hanno sorpreso in flagranza per detenzione illecita di stupefacenti se involucrino in cielo fan di hashish pronti per la vendita durante i controlli in un'area verde, noto luogo di incontro di pusher con i loro clienti. I finanzieri hanno poi prequisito l'abitazione del giovane dove in salotto nascosti in un rettilario hanno trovato 18 panetti di hashish, un bilancino di precisione materiale per il confezionamento e denaro contante provento dell'attività di spaccio. La droga sottoposta a sequestro sul mercato avrebbe fruttato almeno 10.000 euro. Il giovane pusher disoccupato e con altri precedenti per droga, violazioni al codice della strada, furto, rapina, ricettazione, violenza e minaccia pubblico ufficiale è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Vasto. Le indagini del piano d'azione Drug Market proseguono per individuare e stroncare i flussi e le fonti di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti immesse in commercio. L'operazione appena portata al termine dalle fiamme gialle pescaresi, spiega il comandante Antonio Caputo, è risultato del costante presidio economico del territorio assicurato dalle pattuglie attive su strada per la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche delle modalità di reimpiego dei proventi illeciti derivanti da queste attività criminali.